ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video bentornati sul canale finalmente riesco a portarvi un nuovo mezzo un nuovo mezzo di qualità finalmente un mezzo come dio comanda come avete già visto nelle mie storie instagram come potete vedere qua eccolo lì sono a bordo della stella sono a bordo di un pullman gran turismo sto facendo un servizio tipico sono a bordo di mercedes travego eccolo qua guardatelo come splende va detto che l'ho appena passato anche però siamo su un altro livello di pullman rispetto a quelli che vi porto sul canale di solito insomma ve lo mostro un po meglio dietro potete vedere già le sedute sono 55 posti solamente a sedere compresi di conducente 12 metri due assi solita portata questo a 18 tonnellate vi mostro un po di comandi la console di guida un po di dettagli dai è un 2008 per cui non è nuovissimo però si gioca veramente ad un altro sport fa la sua bella figura la qualità si vede tutta si vede tutta la differenza sia rispetto ai mezzi di linea che abbiamo che vi porto di solito sul canale poiché gran turismo generalmente sono più rifiniti e sono migliori sotto ogni punto di vista sia proprio la differenza sui componenti montati dalla mercedes vi metto a grand'angolo così potete vedere esattamente quello che vedo io dal posto guida partiamo dalla mia sinistra in alto dal logo travego e dalle forme che si intravedono molto spioventi verso il muso per avere un buon coefficiente di penetrazione aerodinamica essendo pensati principalmente per i viaggi avere un buon coefficiente di penetrazione aiuta i consumi che infatti sono ottimi qua c'è il grand'angolare sinistro e abbiamo anche il grand'angolare destro eccola così abbiamo una visuale completa che due grand'angolari per qualunque tipo di svolta su qualunque tipo di curva di tornante ovunque ci serva vedere esattamente dove va il nostro mezzo la nostra macchina con il muso qua abbiamo la solita macchinetta tom tom a cui dedicherò un video che probabilmente sarà una live per spiegarvi un po per mostrarvi ad esempio i rilievi sulla mia guida e mostrarvi un po come funziona la targhetta con l'altezza che è molto importante specialmente quando si va in luoghi sconosciuti quando si fa turismo un po di comandi luci la macchinetta del caffè che abbiamo a bordo e anche di buona qualità fari porta oggetti perfetto porta bicchiere tasca posso accendere che ormai non serve manettino dei freni per il freno di stazionamento lì sotto abbiamo il comando per alzare ed avvassare la carrozzeria dell'autobus le sospensioni in modo da poter smusare magari su qualche muretto più alto o dovunque possa servire avere un po più di luce da terra o anche abbassarlo i vari comandi le regolazioni del sedile braccioli perché la guida deve essere confortevole quando si macchinano chilometri microfono per le comunicazioni ai passeggeri o per presentare anche i luoghi in cui si va ecco il tema dei sedili non mi piace molto è un po retro ma l'importante è che effettivamente sia confortevole bella poltroncina per la seduta guardate il dettaglio sul volante questo a 500 mila chilometri bello è ben rifinito e come nuovo alla giusta dimensione è una via di mezzo tra quelli piccoli che piacciono a me e quelli un po più grandi ma si manovra bene ha un ottimo sterzo perché gira veramente tanto tende a tagliare un po col fianco come i suoi fratellini mercedes integro di linea però ha davvero tanto tanto sterzo se arriviamo a fondo corsa anche questo gira tantissimo per risolvere il problema della fiancata che taglia la curva si allarga e si infila per il comfort per i lunghi viaggi in autostrada il cambio è manuale in modo da poter modulare col piede l'attacco della frizione e poter avere una guida che sia il più morbido possibile un sei marce più che sufficienti per qualunque situazione come con le vadis potrei partire benissimo in seconda ma parte in prima per evitargli inutili sforzi i comandi autoradio e clima clima molto ben fatti semplici immediati e l'autoradio al blau punt classica che montiamo praticamente tutti i mezzi di questi anni apertura porte bottole indicatori di emergenza campanella che non c'è tasto per disattivare le sp magari su nevo in situazioni critiche secondo microfono per l'accompagnatore che ovviamente al seggiolino qua in parte tag per il parcheggio interno in azienda gps in modo che l'azienda possa tracciare esattamente dove si trova l'autobus accendiamo il quadro così vi mostro la guarda bello logo della stella purtroppo sul display gli anni si vedono tutti anche se immatricolato 2008 il modello sarà sicuramente precedente come si può vedere c'è il pieno di gasolio ho appena fatto gasolio ea di blu 512 mila chilometri solite spie ora radio oggi sono sintonizzato su radio company così una mattinata per cambiare fuori ci sono 20 gradi sono a cividale dove c'è un po di venticello però tutto sommato sono in maniche corte come si può vedere indosso il modello della camicia precedente quello autista anni 50 per capirci molto dritto molto classico perché del nuovo modello ne ho ancora poche non ne avevo pulite a maniche corte dunque ho indossato una delle precedenti non è sempre facile trovare il tempo per fare anche le faccende di casa lavare stirare farsi da mangiare per cui ogni tanto capita insomma quando si usa più di 23 camicia a settimana succede anche di dover tirare fuori i modelli precedenti ve lo mostro anche da fuori ecco qua la mia angolazione preferita guardate il tetto spiovente all'anteriore il bel musone del travego sempre a logo stella non ve l'ho ancora detto ma in questo periodo sto rifacendo il mio primo servizio sono di nuovo a fare il servizio sostitutivo treni è un piacevole ritorno in quelli cividale è un piacevole ritorno ai miei vecchi turni anche se leggermente modificati eccoci qua allora approfitto di quest'uscita per mostrarvi subito uno dei difetti principali secondo me di questo mezzo se proprio vogliamo trovargliene uno sono i montanti anteriori quanto devo sporgermi e quanto devo girare per riuscire a fare una svolta a sinistra e ve li mostro meglio dopo adesso vi inserisco il frame con la ripresa e specialmente quello destro è veramente impegnativo copre tantissimo la visuale e avendo in più anche il mobiletto con la macchina del caffè è davvero scomodo quello di sinistra chiude un po' la visuale posteriore ma nelle svolte non si crea problemi o nei dare precedenza nelle rotonde quello di destra invece si chiude tantissimo chiude chiude davvero tanto bisogna fare molta molta attenzione da qui in poi il video prosegue in pov perché adesso carichiamo un po di gente e quindi parte il servizio carichiamo un po di gente che in pov Grazie a tutti. 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 è arrivato il collega.